Proseguiamo con Giuliano Granato, Potere al Popolo parte da una base elettorale forte nel 2018, 45 mila voti in Campania, oltre 370 mila a livello nazionale alle politiche. Qual è il vostro obiettivo? Lei è il candidato anche più giovane, 34 anni, alla presidenza della regione. Sì, e infatti è legato strettamente a questo dato la nostra presenza. Il nostro slogan è la Campania e il futuro. La Campania è la regione più giovane d'Italia, significa che abbiamo il maggior numero di giovani di tutto il paese. Questo però a livello di rappresentanza politica, di classe dirigente non si vede assolutamente. Noi purtroppo siamo davanti ad un duplice futuro possibile al momento. O emigriamo al nord, fuori dall'Italia, nel resto d'Europa, andando ad arricchire altre terre, andando a portare la nostra esperienza, i nostri studi, le nostre conoscenze e la nostra voglia di costruirci un futuro altrove, oppure rimaniamo qui dove siamo preda della disoccupazione, della camorra, del precariato, del malaffare. Perché questa è la regione che ci stanno regalando i nostri politici. Una classe politica che da 30 anni è aggrappata al potere e che per noi è responsabile del crimine più grande che si possa fare. Perché la classe politica che al momento è al governo, così come quella che ha governato negli ultimi 20 anni in questa regione, è responsabile dell'omicidio della speranza. Il nostro obiettivo è riportare la speranza in questa terra. Abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare, perché non solo siamo la regione più giovane d'Italia, siamo anche una regione che è ricchissima di storie, ricchissima di tradizioni. Abbiamo delle persone che hanno studiato, lavorato, che si sono fatte valere all'estero e che potrebbero costruire il futuro di questa terra. Non abbiamo nessuna tara mentale, non siamo inferiori agli abitanti del nord Italia, non siamo inferiori agli svedesi, agli inglesi. Siamo un popolo grande che nella storia è stato grande, possiamo tornare a costruire finalmente un futuro dignitoso. Siamo un popolo di gente degna, ci vogliono politici degni che la rappresentino e che possano finalmente aprire la strada al futuro. Un po' in controtendenza con il modo recente di fare politica, anche causa Covid. Voi state comunque battendo il territorio, state organizzando una campagna elettorale capillare, quartiere per quartiere, piazze e mercati. Che risposte state avendo? Noi stiamo girando tutta la regione proprio perché uno degli obiettivi è mettere in luce la ricchezza di questa regione. Non parliamo soltanto di quei beni o di quei progetti che sono già conosciuti a livello internazionale. Penso a Pompei, penso alle isole. Penso però che ci sia una parte della nostra regione che troppo spesso non è conosciuta dagli stessi campani. Allora noi stiamo cercando di far venire fuori questa luce. Io dico che il riscatto della nostra regione parte dalle aree interne, parte dal profondo sud dove ci sono delle esperienze straordinarie, di cui però nessuno parla, delle esperienze a livello scolastico, di scuole che educano al futuro, educano ad un ambiente pulito, educano al riciclo. Oppure penso ad altri tipi di esperienze come ai produttori agricoli che malgrado l'inquinamento, malgrado la devastazione che ci hanno portato questi politici nella nostra terra, continuano a produrre dei prodotti che arrivano poi alle nostre tavole e che sono l'orgoglio della nostra regione in tutto il mondo. L'obiettivo di questa campagna elettorale itinerante è proprio quello di conoscere e di far conoscere all'esterno questo tipo di storie, portando alla ribalta anche la sofferenza che troppo spesso rimane di sottofondo e invece deve uscire fuori perché è un elemento da cui partire se vogliamo costruire il riscatto. Angrizzanato, Cirillo aveva fatto riferimento alla violenza sulle donne, ci sono molte discriminazioni anche nel campo del lavoro. Questo è un tema, quello del lavoro, a voi particolarmente caro. Allora volevo un suo intervento su questi due punti, su quello del lavoro, quali sono le idee di potere al popolo su questo tema e poi riallacciandomi al discorso di prima della sanità, voi avete un'idea della sanità preventiva, che cosa significa questo? Io credo che viviamo in una campagna elettorale paradossale, perché il tema che dovrebbe essere al centro di ogni programma, al centro dell'interesse di tutti, il lavoro, è completamente sparito dall'orizzonte. Io ho lavorato per anni a nero e nessuno parla di lavoro nero, ho lavorato per anni da precario e nessuno parla di precariato in questa regione. A me sembra che invece sia il tema cardine, non è un caso che noi abbiamo portato avanti una campagna, andando a incontrare i lavoratori stagionali del turismo, quelli dei trasporti, andando a incontrare diverse vertenze che sono in lotta, penso alla tema di Somma Vesuviana che proprio in questi giorni rischia un forte ridimensionamento, se non addirittura la chiusura, ma anche la Whirlpool è un tema assolutamente caldo. Da questo punto di vista si possono fare delle cose subito, perché noi quando saremo al Consiglio regionale il primo provvedimento che porteremo sarà cambiare il ruolo del comitato, che già esiste, un comitato per la salvaguarda della salute e della sicurezza sui posti di lavoro, in modo tale che la regione insieme ai comuni trovi l'accordo affinché la polizia locale, cioè la polizia municipale, possa effettuare anche controlli che contrastino il sommerso, per far emergere il lavoro nero, perché è una piaga e purtroppo viviamo in una regione in cui in ogni punto andiamo a mettere il dito, scoppia un gubbone del pus incredibile. Questo è una parte del lavoro, perché ora servirà invece costruire un piano per il lavoro a livello regionale. Noi diciamo una cosa, c'è una sfida, che è la sfida ecologica, c'è la sfida della transizione ecologica, che è stata sottolineata da giovani e giovanissimi in tutto il mondo per mesi, giovani e giovanissimi che sono stati blanditi dai politici, li accoglievano, li facevano andare in televisione, ai consigli comunali, insomma, e poi sono stati normalmente dimenticati. Questi giovani meritano una risposta, noi meritiamo una risposta. La risposta è la sfida della transizione ecologica, che permette di produrre dei prodotti che siano, dal punto di vista ambientale, rispettosi di tutti i crismi, di tutti gli standard più elevati. Penso alla mobilità, noi possiamo produrre oggi autobus elettrici o imbarcazioni che già esistono, perché io le ho viste con questi occhi in cilento che sono alimentate a energia solare e sono queste le produzioni del futuro, sono queste le produzioni che ci permetteranno di entrare nel domani. Per quanto riguarda invece la sanità, noi viviamo una situazione paradossale. Io vi racconto una storia, la storia di Antonio, Antonio ha 62 anni, è il padre di una mia amica. Al momento è a casa, qui vicino agli studio della RAI perché è a fuoricrutta, è in auto isolamento e da sette giorni sta aspettando il tampone. È una persona che ha avuto problemi polmonari in passato, che negli ultimi giorni purtroppo ha avuto dei sintomi ed è preoccupato di poter aver contratto il Covid, sono sette giorni che aspetta il tampone. L'ASL non ha ancora dato una risposta, non è responsabilità dell'ASL, non è responsabilità dei medici, è responsabilità di un servizio sanitario regionale che è stato distrutto scientificamente da Caldoro e da De Luca, da tutti i fautori dell'austerity. Questo è il sistema, noi oggi ci troviamo ad affrontare l'emergenza Covid senza avere tamponi. Noi diciamo medicina preventiva che significa tamponi, abbiamo visto gente morire di Covid senza un tampone, questo è un dramma di questa regione, sono passati sei mesi e i tamponi non ci sono. Gli istituti pubblici, i laboratori pubblici non sono stati investiti dell'esigenza di analizzare i tamponi. Perché non si è fatto? Perché De Luca non si è mosso su questo? E noi dobbiamo tenere presente che la sanità non significa ospedale. Io sono stato a Piedimonte Matese, nell'Alto Casertano, lì c'è una battaglia per ottenere un ospedale funzionante, ma c'è anche un'altra battaglia che per certi versi è altrettanto importante. In quel territorio ci sono tanti piccoli paesini abitati da pochi abitanti, non c'è la necessità di costruire un ospedale in ogni paese, c'è però la necessità di investire nella medicina di base. Noi oggi abbiamo un medico di base ogni 5.000 abitanti, bisogna ridurre almeno alla metà, un medico di base ogni 2.500 abitanti e investire sull'assistenza domiciliare. I medici devono andare nelle case delle persone e devono effettuare screening, campagne di prevenzione, perché si abbattono i costi e si salvano le vite. Questa è la sanità che noi vorremmo. E quando saremo a Santa Lucia è su questo che spingeremo. Grazie, che è nato. Io mi rivolgo a tutti quelli che hanno perso fiducia nella politica, perché io capisco benissimo questo sentimento, anzi, io capisco anche quando ad una persona faccia schifo la politica, perché la politica a me, giovane di questa regione, ha regalato soltanto la possibilità di emigrare o la possibilità di stare qui a lavorare a nero, nella terra dei fuochi, magari morire di tumore, senza nemmeno riuscire ad arrivare in un ospedale. La politica alla gente della nostra regione non ha mai dato nulla. Però c'è la possibilità di costruirlo il futuro, perché non c'è soltanto questo. A noi spesso raccontano soltanto la parte brutta, raccontano la mediocrità. La Campania ha tutte le possibilità per essere finalmente, tornare ad essere Campania Felix e smettere di avere quell'etichetta appiccicata addosso di terra dei fuochi. Non c'è nessun motivo per cui non dovrebbe succedere. Noi ci proponiamo che quando entreremo a Palazzo Santa Lucia, quando saremo alla regione, faremo ritornare la fiamma della speranza, con progetti concreti che già sono in atto sui territori. Siamo un popolo grande, siamo il popolo della soldarietà, siamo il popolo del panaro solidale durante il Covid. Non ce lo dimentichiamo e ricordiamoci delle persone che hanno portato avanti tutti i giorni, e non solo in campagna elettorale, questi valori, questi progetti e questa volontà di futuro. Grazie Giuliano Granato.